musica Un nuovo show, anzi uno dei pochi, un one man show al femminile per Francesca Reggiani, un manuale di sopravvivenza al caos, rimbalzando tra realtà e reality, tra innovazione e tradizione, non ci restano che due opzioni, piangersi addosso o farci sopra della satira alla Sala Umberto. Arriva a Roma il Maggie e Bianca Fashion Friends, insieme a Live Tour, il nuovo ed avvincente spettacolo dal vivo delle due giovani star dell'acclamata serie in onda su Raigul, pigliata da Eugenio Stracchi e prodotta da Rainbow in coproduzione con Raigliction. Due li appuntamenti domani sabato 12 gennaio alle 18 e domenica alle 17 al Teatro Olimpico. per le vostre segnalazioni